Un gesto tecnico si ma anche dal forte valore simbolico e soprattutto politico. Il sindaco di Bari Antonio De Caro ha nominato l'amministratore giudiziario di Antab Luca D'Amore componente del consiglio di amministrazione dell'ex municipalizzata per il trasporto urbano del capoluogo. La decisione è arrivata durante l'assemblea, dall'azienda, nell'escorsione e soprattutto dopo l'autorizzazione espressa da parte del tribunale. D'Amore sostituisce la consigliera di missionaria Lorena Costantini, in compenso si tratta dell'avvocato romano inviato nel capoluogo per affiancare la governance della partecipata dopo il terremoto giudiziario che ha portato a 130 arresti con l'operazione codice interno mettendo sotto i riflettori proprio l'Amtab e il livello di pressione della criminalità e del clan Parisi in particolare sulla stessa. La presidente Angela Donvito è stata già ascoltata, sì, ma come persona informata sui fatti e non come indagata. E così la nomina dell'escorsione spiegano da Palazzo di Città rientra nella volontà piena di rafforzare il rapporto di collaborazione con l'autorità giudiziaria esattamente come con i commissari inviati dal Viminale e nel contempo accelerare il più possibile quelli che Antonio De Caro definisce interventi di stealth clinic della società.